Ben tornati alla nostra rubrica di approfondimento delle notizie del Tg dell'arte. Come anticipato poco fa da Gabriele, sono in compagnia di Cristian Marinotti. Benvenuto Cristian. Grazie, grazie mille. Grazie di essere qui, critico dell'arte e docente universitario di storia dell'arte alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, con cui analizzeremo meglio alcune delle notizie di cui abbiamo parlato poco fa. E comincerei con una notizia molto particolare di un'asta speciale andata completamente sold out per un evento ancora top secret, in collaborazione con Amnesty International. Stiamo parlando della serata organizzata dall'artista Max Papeschi, serata in cui molti collezionisti sono accorsi per acquisire le opere dell'artista, consentendogli così di autofinanziare il nuovo progetto che durerà almeno due anni, a partire dal 2016, toccherà diverse città in tutto il mondo e sarà appunto realizzato in stretta collaborazione con Amnesty International. Titolo del progetto, Welcome to North Korea. Per presentare questo progetto, l'artista ha organizzato un flash mob in Piazza Piemonte di Milano per lanciare questa iniziativa satirica contro il dittatore della North Korea, in cui praticamente tutti i giovani partecipanti al flash mob dovevano pronunciare le parole se provi a scappare ti dovrò fucilare. Ci vuoi parlare di questa iniziativa Cristian? Volentieri, sarebbe bello se la regia mandasse in onda proprio l'immagine di quella performance. Sì, che stavamo vedendo prima. Eccola. Ecco, vedete una serie di ragazze in calzamaglia con la maschera del dittatore coreano che ripetevano in modo così ossessivo, ridimmi quello... Se provi a scappare ti dovrò fucilare. Ecco, assolutamente in perfetta sintonia con la politica coreana, nordcoreana di oggi. La performance è molto divertente e pieno di ironia anche il progetto dell'artista. Mi ricorda però tantissimo un'altra performance che è possibile lo abbia anche ispirato, magari lui non la conosce nemmeno, ma è famosissima, che è avvenuta alla Biennale di Venezia nel 2003. Era la 51esima Biennale e l'artista in questione è Tino Siegel. Tino Siegel è un artista performer famosissimo, tanto famoso e tanto importante che vinse anche una Biennale, non quella, la 55esima del 2013, quella fra l'altro diretta da Massimiliano Gioni, dove appunto fu premiato col Leone d'Oro. In quella precedente, il 2003, lui rappresentò la Germania. Già quello era un caso insolito perché l'artista è di origini britanniche, vive ormai a Berlino da molto tempo e si è quasi naturalizzato, tant'è che appunto la Germania gli ha affidato la rappresentanza del paese alla Biennale. E quella performance fu, devo dire, abbastanza stupefacente. E voi avete in mente il padiglione tedesco alla Biennale, già molto sontuoso, un padiglione piuttosto costruito, decisamente, insomma, prestigioso già nel suo aspetto. Si entrava nel padiglione e il padiglione era completamente vuoto. E si rimaneva un po' sgomenti, questi saloni totalmente, anche un po' abbandonati, quando poi si veniva avvicinati da due, tre ragazzi, che sono, sai, i soliti sorveglianti che ci sono alla Biennale, che non sono come quelli dei musei con la divisa, normalmente i padiglioni nazionali della Biennale chiedono un po' agli studenti delle facoltà di arte di fare un po' volontariato e fanno i sorveglianti. E sono vestiti, alle volte, uguali tra di loro, alle volte nemmeno. Insomma, si veniva avvicinati a queste tre persone che ti stringevano, si avvicinavano molto e cominciavano This is so contemporary, contemporary, contemporary. Oh, this is so contemporary. E la gente rimaneva completamente sbalordita, imbarazzatissima, ma anche molto divertita, da questi che ti cantavano questa musica, e poi arrivava un altro visitatore, si sganciava andando verso quell'altro. Insomma, molto divertente. E questa della nostra Corea me lo ricorda molto. Che cosa voleva dire Tino Siegel con quel This is so contemporary? Rispetto al fatto che invece non c'era niente, cioè il padiglione era vuoto, non c'era opera d'arte. A significare che l'arte contemporanea, paradossalmente, potrebbe anche fare a meno delle opere e degli artisti, perché già c'è talmente un tale sistema che vi poggia sopra di biennali, di fiere dell'arte, di critica, di curatori, di giornali, di opinion maker, di case d'aste, di gallerie, di chi ne ha più ne metta. Per cui è già talmente un intricato sistema che solo andare alla biennale è molto contemporary. E parlare della biennale, arrivare lì al momento giusto, al giorno giusto, all'occasione giusta, anche quello è molto contemporaneo. Tutto fa parte, la moda, la tendenza. E in questo assoluto deserto di padiglione, quella frase scandita, in questo canto molto divertente, era spiazzante. Ed è stata, devo dire, molto molto divertente. Certo, assolutamente. E tornando un po' all'iniziativa di Papeschi, si può dire che l'arte a volte può portare anche una riflessione sui complessi meccanismi anche proprio del politico mediatici su cui regge la società contemporanea, perché nel caso della dittatura in Nord Corea è comunque una questione, appunto, in cui è subentrata anche Amnesty International, quindi un caso universale, ecco, che coinvolge diversi settori, non solo l'arte. No, no, sicuramente. Insomma, il caso della Corea del Nord è un caso non solo politico, ma di costume. Insomma, il dittatore è talmente bizzarro, oltre che crudele, feroce, per cui è veramente una tragico media quella che si sta assistendo nella Corea del Nord. Fa bene questo artista, Papeschi, a porre l'accento, anche in termini artistici, perché tutto serve poi a far riflettere sulle cose che ci accadono. E quindi questo intervento satirico, ironico, ci può stare, però è molto, come dire, dichiarato, è molto in qualche modo facile, un po' scontato, se vogliamo. È giocato con molta fantasia, perché in realtà l'artista non me ne voglia, però sarebbe stato quasi meglio se si fosse riuscito a fare una critica senza che quasi il dittatore si vedesse, ma se lo si potesse in qualche modo intuire, sarebbe stato persino per certi aspetti più efficace. E questo diventa un po' macchiettistico, diventa un po' caricaturale. Certo. Ecco, è un po' il discorso che si è fatto in qualche edizione fa di telegiornale, sul famoso gabinetto di Cattelan. Ecco, lì era tutto un richiamo, no? E allora forse è più efficace che non magari, invece, come dire, una cosa così dichiaratoria. Certo, dichiaratoria, però sicuramente è un caso in cui l'arte porta a riflettere su alcuni temi, ad avvicinare le persone, a coinvolgere anche, per esempio, come in questo flash mob, gli spettatori, no? Che quindi rientrano a far parte dell'opera d'arte. No, 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 ma... Si può dire anche che, diciamo, il mondo dell'arte, il mercato è cambiato un po' in questa direzione. Non sono più solo le gallerie, magari, a decretare il successo di un artista, ma coinvolgendo il pubblico stesso si crea, diciamo, un rapporto un po' più vicino con lo spettatore finale. Cosa ne pensi? Questo, indubbiamente, direi che è uno dei tratti distintivi dell'arte contemporanea. Il fatto che il pubblico sia interagente, molto interagente, in questa performance in particolare, in quella che ho raccontato prima pure, di più, cioè, c'è questa, questa veramente interrelazione rispetto a un tempo dove lo spettatore guardava in modo più passivo, subiva, ecco che oggi, invece, insomma, il coinvolgimento è maggiore. Questo sicuramente. E poi, ripeto, ben venga che anche l'arte rifletta sulla politica, rifletta su fenomeni sociali, ci può stare. Qui lui ha così usato un registro di ironia e anche sorridere può servire. Può aiutare, certo, sicuramente. E cambiamo un po' argomento, anche se rimaniamo su un'altra ASTAP, che è stata battuta a Sotheby's a Parigi nei giorni scorsi, perché è stato appunto battuto un'intera collezione dedicata alle opere del Dade del Surrealismo per oltre 5,8 milioni di euro, a fronte di una stima iniziale tra i 3 e 4,5 milioni di euro. Ci vuoi parlare di questa collezione? Sì, questa in verità è una gran brutta notizia, è una notizia che dovrebbe far riflettere. Allora, un'intera collezione di dipinti, di opere d'arte, sia surrealistiche d'Ada, hanno appunto raggiunto la cifra nel loro complesso di 5,8 milioni di euro, cioè praticamente un pezzo di una scultura di Cattelani, un pezzo di una scultura di Jeff Koons. e allora si è ammessi male davvero, nel senso che qui di nuovo il mercato va da una parte, il pensiero, la cultura, il senso va da un'altra. Poi, per carità di Dio, che il mercato abbia sempre ragione, che la legge del mercato è quella vincente, va bene, posso anche dire che non se ne può più, cioè ritorniamo ai valori reali, cioè torniamo a pensare e a riflettere su che cosa è l'arte davvero. mamma mia, adesso che un'intera collezione, cioè probabilmente quella cosa era anche brutta, adesso io non l'ho vista, ma ci può anche stare, ma comunque, adesso, davvero, 5 milioni, un'intera collezione? No, un braccio dello Hitler di Cattelani che è stato venduto a 17 milioni e mezzo, cioè un'intera collezione di Dalì, Max Ernst, Miró, cioè come un braccio, un braccino di quella sculturina dell'Hitler che pregava. Secondo me, per carità, il mercato ha anche sempre ragione, ma è veramente bislacco, cioè sono delle strutture che davvero non hanno senso, fanno riflettere, fanno anche un po' protestare, cioè lo trovo davvero diseducativo. Bisognerebbe portare invece le persone a riflettere ciò che l'arte ha dato nel passato, ciò che sta dando ancora nel presente, riportiamola sui valori, torniamo a riflettere, continuiamo, riprendiamo a parlare d'arte, viva Dio, basta parlare di soldi, non se ne può più. È vero, no, appunto, perché poi sono, diciamo, una corrente che ha fatto un po' alla storia dell'arte, come dicevi tu, c'erano opere di Breton, di Zara, di Dalì, di Duchamp, di Man Ray, di Pablo Picasso, di Jean Miro, e tra l'altro Top Price è stato l'album di fotografie di Man Ray, che con le sue radiografie costituisce, diciamo, questa tecnica fotografica di realizzare composizioni astratte in bianco e nero, impressionando la carta sensibile senza far uso di macchina fotografica. A te piace l'artista? Sì, sì, vabbè, Man Ray è un artista formidabile, stranoto, inizia come dadaista, dadaista americano, voi sapete che il Movimento Dada ha avuto anche una sua sezione americana, e poi insieme con Duchamp diventano animatori di quella parigina, e successivamente entrambi confluiranno nel surrealismo, in particolare Man Ray. Man Ray rimane un maestro della fotografia, un assoluto maestro, le radiografie sono quelle anche un po' più complesse, perché sono quelle meno giocate sul paradosso, sono quelle invece più sperimentali, appunto, come dicevi tu, queste sovraesposizioni, questi sviluppi, diventano delle opere astratte. Probabilmente questa era una collezione difficile, ecco, mi sembra di capire che non era una collezione per tutti, ciò nonostante davvero, è scandaloso, insomma, rimango scandalizzato, insomma. Ma qua comunque si parla anche di record, perché si parla appunto di altro record per il carnet inedito di Salvador Dalì che conteneva dei disegni originali su 33 pagine, tra l'altro ha acquistato via internet per circa 92 mila euro, quindi cifre... No, ecco, queste sono opere di grafica, un po' più difficili. sono disegni che non hanno mai un valore tanto elevato rispetto alle tele, ovviamente risapute, anche la fotografia non gode di fortune nel mercato così straordinarie, quindi evidentemente questa era una collezione non di altissimo standing, ripeto, però ugualmente c'è una disparità comunque che grida vendetta al cielo. Certo, l'invito un po' a quello di tornare a riflettere sul vero senso dell'arte. Bravissimo, torniamo al senso, abbandoniamo un po' il mercato per un momento. Certo. Cristina e io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e ti do appuntamento alla nostra prossima puntata. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.